io mi dolgo della natura la quale o ella non mi doveva fare conoscitore di questo o ella mi doveva dare facoltà a poterlo eseguire ne penso oggi mai essendo vecchio poterne avere alcuna occasione e veramente se la fortuna mi avesse conceduto per l'addietro tanto stato quanto basta una simile impresa io crederei in brevissimo tempo avere dimostro al mondo quanto gli antichi ordini vagliono e senza dubbio o io l'arei accresciuto con gloria o perduto senza vergogna ma remma e questo è l'inizio della monografia mi perdonerete per la toscanità assolutamente veneta che vi ho proposto ma insomma ci stava questa è la monografia su niccolò macchiavelli che comincia come sempre dopo la sigla sì lo so ovviamente macchiavelli non ha il mio accento veneto e non parlava neanche probabilmente con questa toscanità però mi concedete è l'ultima monografica della stagione volevo avere anche la reaction di dario moccia su questo inizio di live così poi mi becco un sacco un sacco di letame dai toscani ma in realtà macchiavelli è patrimonio della fiorentinità e allora è anche un tributo a questo linguaggio un po ostico per un povero veneto da leggere e visto che oggi abbiamo tante letture su macchiavelli almeno la prima volevo sentirme la divertente ok ma adesso torniamo seri perché in realtà il pezzo con cui ho aperto questa live è una lettera che macchiavelli scrive in tarda età e che già ci presenta il personaggio nella sua caratura lui dice se soltanto la fortuna non mi avesse dato le conoscenze che mi ha dato e invece mi ha dato quelle conoscenze ma non mi ha permesso di attuarle perché in fin dei conti niccolò macchiavelli è un gigante del pensiero filosofico che ha influenzato come vedremo tantissimi altri pensatori ma uno sconfitto della vita perché la vicenda politica e umana di macchiavelli è quella di uno sconfitto e nelle righe che ho voluto utilizzare come apertura lui lui esprime con rammarico questa grande sconfitta nonostante quella sconfitta noi non lo possiamo vedere che come un grande vincitore il suo principe è un libro che è in tutte le librerie dei grandi politici di oggi e tutte le sue teorie hanno avuto un'influenza incredibile non solo a livello politico è uno infatti dei fondatori del pensiero politico moderno direi forse il primo vero pensatore politico da cui tutti gli altri poi hanno preso spunto per creare tante teorie che oggi fondano anche le democrazie liberali occidentali si tratta della chiave di volta che anticipa le intuizioni di spinoza di vico di obbs giusto per citarne alcuni ma di tanti altri e il suo atteggiamento che quello di un realismo politico a volte anche crudo e crudele ancora oggi è nelle librerie e nella formazione dei grandi capi di stato i quali su macchiavelli sono formati scuole politiche ancora oggi prendono questi testi e queste teorie come modelli da seguire da applicare e io credo che sia una cosa interessantissima per questo ci dice quanto la filosofia moderna abbia avuto un impatto sul mondo di oggi la sua originalità non è soltanto inserita nel suo tempo lui è stato un pensatore originalissimo e questo gli ha portato grandissimi nemici antagonisti il principe fu di fatto bandito e messo all'indice per 200 erotti anni dalla chiesa e poi vedremo anche perché ma poi insomma le sue teorie sono state molto osteggiate anche per la visione religiosa ma non solo ma il suo pensiero è originale anche per quello che accade nel nostro tempo come vedremo insomma tante teorie politiche oggigiorno sarebbero fondamentali da comprendere applicare e una buona parte dei fraintendimenti che vigono nell'ordinamento mentale politico oggigiorno sono dovute anche il fatto che questo autore è stato molto frainteso e spesso non conosciuto la sua è una vita tumultuosa lui è stato ovviamente nella firenze dopo che i medici furono cacciati e lui prima prese il potere poi diventò soldato poi venne bandito completamente esiliato e morì in povertà uno sconfitto che però ha visto molto più in là della sua epoca macchiavelli in questo senso è un pensatore e personaggio tragico nel vero senso del termine e il suo pensiero la sua vita proprio riflettono questa tragicità che stasera andiamo a sviscerare insieme ovviamente come sempre è una monografia quindi io metto in descrizione i testi che consiglio per avvicinarsi a questo gigante del pensiero il mio intento non è quello di farvi accontentare di quello che vi dirò ma è quello di farvi leggere questo pensatore che non è facile da leggere come avete sentito insomma io l'ho resa anche più difficile perché ovviamente il mio toscano non è particolarmente ben allenato ma il linguaggio di macchiavelli è il linguaggio di un pensatore di fine 400 inizio 500 quindi è un linguaggio ostico è un linguaggio è un volgare fiorentino ancora molto lontano dai nostri stilemi attuali quindi avvicinatevi con pazienza non è un però nonostante questo l'accessibilità dei ragionamenti c'è quindi una volta superato lo schema linguistico diverso dal nostro il suo pensiero è comunque abbastanza abbastanza chiaro le opere che vi consiglio per partire sono ovviamente uno è il principe io qui ce l'ho in edizione burma insomma ci sono tante edizioni ottime ci sono i discorsi che sono probabilmente la sua opera più importante quella che viene utilizzata positivamente anche a livello di dottrina politica perché il principe comunque un'opera che è stata pubblicata postuma è anche abbastanza polemica con degli slanci satirici non da poco e poi c'è anche dell'arte della guerra che è un libro molto interessante che vi consiglio forse anche un po più accessibile rispetto agli altri e sono tre testi fondamentali dall'altra parte io se voi avete la disponibilità e volete farvi insomma un bel regalo consiglio l'edizione con le opere complete della collana bonpiani con l'intero pensiero occidentale è un bellissimo libro con un ottimo commento critico e insomma veramente vale la pena di averlo se volete avvicinarvi a questo pensatore consiglio anche la mandragola perché la sua opera teatrale più famosa lui fu anche uno scrittore di opere teatrali andremo un po a toccare però soltanto a un passano e andremo soprattutto sulla saggistica prima di addentrarci nel primo capitolo voglio dire un paio di cose questa è l'ultima monografia di questa stagione è stata una stagione intensissima vi ricordo che mi ha avuto monografie del calibro di quella di plotino di maester eckhart quella su david foster wallace la monografia su aldo saxley che credo sia ancora una delle migliori che ho fatto in questi anni e tanti pensatori tanti scrittori abbiamo anche cominciato gli speciali sui registi con cronenberg nella prossima stagione porteremo avanti e voglio spendere due parole per dirvi che la mia rubrica sulle monografie è la rubrica che io reputo di maggior successo nella storia del canale non numericamente perché evidentemente queste sono video che durano un'ora e mezza due ore in cui si va approfonditamente ad affrontare il pensiero anche magari astruso di filosofi artisti scrittori quindi non è una rubrica per tutti ma io mi rendo conto che questa è la rubrica non solo più apprezzata dal pubblico che mi segue da anni ma anche quella che mi ha dato di più perché veramente avvicinarmi a questi pensatori riavvicinarmi riprenderli con lo sguardo è una grande opportunità per me perché mi permette di riprendere in mano pensatori come è successo con maester eckhart per esempio che magari avevo studiato all'università ma che poi ripresi adesso mi danno un ulteriore sguardo sulle cose quindi le monografie rimarranno sono per me la rubrica principale del canale ve lo dico per me è molto chiaro questo quindi grazie a tutti quelli che seguono con passione questa rubrica che mi dà tanto umanamente e che spero vi restituisca almeno un po del valore che io traggo preparando queste cose quindi grazie mille l'invito è a chi avesse scoperto da poco il canale è a recuperare tutta la playlist con le live monografiche ce ne sono alcune anche di otto anni fa perché ovviamente è una rubrica che è nata con il canale pochi mesi dopo la nascita del canale ho fatto la prima monografia quella su nice la primissima su nice e poi si è voluta in tanti modi quindi c'è anche una bella storia del canale anche una storia personale quindi veramente grazie grazie per chi segue questa rubrica che so non essere facile ma nulla di ciò che ha valore effettivamente è facile perciò continuiamo così qua c'è fede con noi che leggerà ovviamente le domande del pubblico buonasera buonasera ci abbiamo qua nicolò machiavelli che è pronto per slanciarsi nei primi capitoli di questa live saluto tutti quelli che sono qui insomma in chat con noi che sono fatti delle grassi risate perché dovete sapere che a inizio live ho dovuto rileggere un paio di volte con quella toscanità assolutamente distorta il pezzo che già era difficile di per sé me lo sono reso ancora più difficile però dai ci siamo divertiti adesso vi giuro che le letture le faccio in modo in modo civile quindi non 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 odiatemi amici toscani direi che ci siamo quindi primo capitolo la criminal virtù resta ora a vedere quali debbano essere e modi e governi di uno principe con sudditi o con gli amici e perché io so che molti di questo hanno scritto dubito scrivendone ancora io non essere tenuto prosontuoso partendomi massime nel disputare questa materia dagli ordini degli altri ma sendo l'intendo mio scrivere cosa utile a chi la intende mi è parso più conveniente andare drietto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa e molti si sono immaginati repubbliche principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero perché egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere e colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara piuttosto la ruina che la preservazione sua perché uno uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono conviene rovini infratanti che non sono buoni onde è necessario a uno principe volendosi mantenere imparare a poter essere non buono e usarlo e non usare secondo la necessità come vedete insomma la lettura non è esattamente facilissima però si capisce il senso che non dobbiamo mica fantasticare su come il mondo dovrebbe essere dobbiamo accettare quello che il mondo mostra ciò che il mondo è e un principe un governante un sovrano non può perdersi in fantasie dicendo è ma io governo come il mondo dovrebbe essere perché in quel caso lì il principe non sarà tale molto a lungo ecco questa è la visione press pessimistica di macchiavelli su cosa si fonda questo realismo cioè di nuovo è un punto molto importante che anche una rivoluzione perché dovete sapere che prima di macchiavelli questo realismo politico era veramente sottotraccia vituperato non espresso perché in realtà la cristianità ha portato questa idea ovviamente tutta fasulla che il governo delle cose dovrebbe trattare la realtà nel modo in cui la realtà dovrebbe essere cioè tu vedi che il mondo è crudele che la gente ruba ammazza mente ma tu dovresti governare secondo i principi più alti quindi non dovresti mentire non dovresti uccidere non dovresti vendicarti e via dicendo con il mondo così dove come dovrebbe essere il principe il governante dura poco le buone intenzioni all'interno della politica non valgono nulla anzi sono dannose perciò quello che qui macchiavelli esprime è un pessimismo che però va nella direzione di un realismo pragmatista se il principe agisce guardando il mondo per quello che il mondo è allora è un buon principe ma questo non significa attenzione essere crudeli significa come dice alla fine onda è necessario a uno principe volendosi mantenere imparare ad essere non buono e usarlo e non usare secondo la necessità cioè un principe dovrebbe imparare ad essere anche crudele anche malvagio non solo malvagio e crudele ma anche perché se la realtà lo richiede lui deve poterlo fare ok bene questo si basa su una visione pessimistica che però designa la virtù del principe attenzione non è la virtù del principe del governante del sovrano intesa in senso di nuovo cristiano o stoico cioè la virtù che ti permette di essere un individuo migliore non è la virtù aristotelica no è la virtù che potremmo definire quella dei sofisti cioè la rete la rete greca che cos'è la rete a rete significa l'abilità naturalisticamente intesa ovvero la capacità di interpretare e agire di conseguenza ciò che esiste questa è la rete la virtù è agire conseguenzialmente rispetto a quello che si presenta di fronte a noi ovviamente la virtù intesa invece in senso cristiano sarebbe un agisco per come il mondo per come io dovrei essere agisco per essere migliore quindi tutti mentono io dico la verità tutti uccidono io rispetto il prossimo tutti ingannano io no dico sempre agisco sempre rettamente la rete non è questa e la virtù del principe per macchiavelli viene definita in un testo addirittura virtù la criminal virtù che è uno simbolo meraviglioso ci pensate ma com'è criminal virtù la virtù del principe è quella persino di compiere qualcosa di criminale e questo ovviamente scandalizza dice ma come da lì nasce l'idea del fine che giustifica i mezzi ma ovviamente questa è una semplificazione perché il pensiero di macchiavelli è molto più ampio rispetto a il principe può fare quello che gli pare non è così vi leggo un piccolo pezzo di un commentatore di macchiavelli che è luigi firpo che dice virtù è vigore e salute astuzia ed energia capacità di prevedere di pianificare di costringere è soprattutto volontà che fa argine alla piena straripante degli eventi che dà regola sempre parziale e caduca al caos che costruisce con invitta tenacia l'ordine entro un mondo che frale si disgrega perpetuamente ecco questo è un punto essenziale il pessimismo di macchiavelli non è tanto un pessimismo nei confronti dell'essere umano cioè sì ma il pessimismo nei confronti dell'essere umano è derivato dal fatto che è il mondo ad essere crudele il caos infatti è questa forza sempre in piena che continuamente distrugge la realtà che la ragionevolezza cerca di tenere in piedi il principe deve utilizzare la sua virtù ovvero vigore salute pianificazione costrizione volontà che fa argine al caos questa è la virtù e ragazzi questo nell'epoca di macchiavelli è stata una roba devastante perché questo nessuno si sognava di dirlo la politica fino a macchiavelli era traduzione in terra dell'ordine universale divino macchiavelli dice no la politica è argine al caos che tutto distrugge e continua firpo il volgo degli uomini è vile malfido avido dissennato non persevera nei propositi non sa resistere impegnarsi patire per raggiungere una meta appena il pungolo o la sferza cadono di mano al dominatore subito le fiacche turbe gettano i pesi scantonano tradiscono ecco allora che arriva il pessimismo di macchiavelli che non è legato alla natura dell'essere umano ma è legato al fatto che gli uomini sono deboli rispetto al alle rompere del caos e quindi appena viene meno quell'ordine fatto di costrizione di politica di volontà ferrea ecco che il volgo si lascia andare alle più turpi conseguenze assecondando la distruzione che il caos porta con sé questo è il motivo per cui macchiavelli dice la virtù del principe è la virtù di imparare anche a non essere buono la crudele volontà del principe che viene espressa in questo pezzettino di macchiavelli che vi leggo che è uno dei miei preferiti qualunque diventa principe o di una città o di uno stato e tanto più quando i fondamenti suoi fussono deboli non si volga o per via di regno o di repubblica alla vita civile il migliore rimedio che gli abbia a tenere quel principato essendo egli nuovo principe fare ogni cosa in quello stato di nuovo come nelle città fare nuovi governi con nuovi nomi con nuove autorità con nuovi uomini fare i ricchi poveri i poveri ricchi come fece david quando ei diventò re qui sta dicendo gli ordini vengono sempre sovvertiti ok cioè questo un po il punto e il principe deve interpretare questo sovvertimento degli ordini edificare oltre di questo nuove città disfare delle edificate cambiare gli abitatori da un luogo a un altro e insomma non lasciare cosa né una intatta in quella provincia e che non vi sia né grado né ordine né stato né ricchezza che chi la tiene non la riconosca da te e pigliare per sua mira filippo di macedonia padre di alessandro il quale con questi modi di piccol re diventò principe di grecia e chi scrive di lui dice che tramutava gli uomini di provincia in provincia come è mandriani tramutano le mandrie loro ecco capite che l'idea di macchiavelli del principe quello del mandriano che muta che non è che tanto muta si muta la natura delle mandrie ma soprattutto le imbriglia in un ordine che va tenuto in modo scientifico metodico altrimenti il caos prende il sopravvento e continua sono questi modi crudelissimi e nemici di ogni vivere non solamente cristiano ma umano e debbe gli qualunque uomo fuggire e volere piuttosto vivere privato che re con tanta rovina degli uomini non di meno colui che non vuole pigliare quella prima via del bene quando si voglia mantenere conviene che entri in questo male ma gli uomini pigliono certe vie del mezzo che sono dannosissime perché non sanno essere né tutti cattivi né tutti buoni ecco quando questa presa metodica del principe questa virtù viene meno gli uomini non sanno decidere di essere tutti buoni o tutti cattivi sono preda come le mandrie senza mandriano della fortuna del caos del conatus avrebbe detto spinosa poi ritorniamo a spinosa è perciò la virtù del principe è quello anche di costringere certo qualcuno mi dirà ma questa è una visione cinica certo che è cinica è pessimista ma certo che è pessimista per macchiavelli dominano le forze caotiche della natura quindi ciò che macchiavelli dice non è poi così dissimile da quello che dirà hobs nel leviatano io ricordo thomas hobs quando parla di homo homini lupus ovvero che l'uomo è il lupo per gli altri uomini e normalmente questo viene espresso come una sorta di misantropia ma non è così hobs non sta dicendo che l'uomo è un mostro hobs dice e il leviatano ma soprattutto il de cive sono opere che lo spiegano molto bene se non vogliamo semplificare dice la realtà è crudele il mondo è crudele nel mondo anche per hobs dominano forze violente feroci distruttive perciò l'essere umano se lasciato nel suo stato di natura ovvero non imbrigliato dalle leggi vedete che qui macchiavelli ritorna se lasciato nello stato brado finisce per essere il lupo per gli altri uomini ma non perché sia malvagio in sé per sé ma perché la natura tende a quella malvagità ecco allora che sull'uomo homini lupus bisogna creare la legge la quale imbriglia i comportamenti umani perché nello stato brado sapete qual è il problema che anche l'uomo buono finisce o per soccombere o per diventare lupo perciò la legge esiste per preservare il bene e questa è la stessa cosa che dice macchiavelli capite che così come con hobs il detto homo homini lupus spesso viene frainteso e semplificato anche il fine giustifica i mezzi di macchiavelli viene frainteso e semplificato perché macchiavelli non sta dicendo che il sovrano può fare qualsiasi può fare di principio qualsiasi cosa può fare anche atti crudeli ma è solo e soltanto perché la vera crudeltà che è quella della natura in quel modo viene arginata perciò non è tanto il sovrano può fare qualsiasi cosa è che se il sovrano non potesse fare qualsiasi cosa per mantenere quell'ordine la sofferenza e la devastazione sarebbero infinitamente più grandi e più grandi e più gravi e questa è la vera rivoluzione macchiavelliana del pensiero politico che infatti poi hobs riprenderà cioè quando tu leggi il de cive e il leviatano macchiavelli è dappertutto l'intuizione di macchiavelli è in ogni pagina è la natura è il mondo ad essere crudele ovviamente capite che questo non piaceva assolutamente agli esegeti cristiani ma per niente ed è il motivo per cui sia macchiavelli che hobs vennero messi all'indice perché se l'ordine naturale universale è cattivo aspetta aspetta un attimo c'è quel tizio che si è sacrificato per noi e per ricordarci che l'alleanza con dio è un'alleanza buona come fa ad essere ecco macchiavelli è rivoluzionario perché dice no mi spiace la bontà è della cultura la bontà è della legge la bontà è della società cosa inaccettabile inaccettabile perché perché l'uomo è l'angelo caduto l'uomo è adamo che compie il male e finisce nella terra perdendo l'eden è inaccettabile rovesciare questa cosa cioè che l'eden è cattivo e mangiare la mela è la creazione della legge che è l'unica cosa che salva l'uomo dalla crudeltà della natura capite che c'è un rovesciamento che oserei definire anche teologico in macchiavelli ed è ovvio che questo pensiero è inaccettabile quindi agli occhi dei cristiani perciò il fine giustifica e mezzi è un'idea molto più profonda rispetto all'utilitarista se abbiamo delle buone intenzioni vale qualsiasi cosa che non è non è quello che dice macchiavelli macchiavelli dice attenzione c'è un solo modo per non cadere in un bagno di sangue ed è quello di avere delle leggi e in quelle leggi il sovrano deve potersi permettere di essere crudele che è una cosa difficile da accettare e però è una cosa che ha avuto un impatto incredibile positivo sulla società umana vedete per macchiavelli questo pessimismo non è un pessimismo radicale e insuperabile nel principe lui dice chiaramente il principe dovrebbe in teoria in un mondo ideale essere amato e temuto cioè il principe dovrebbe essere amato il motivo per cui lui prende a modello i principi di era di era romana perché ovviamente con delle semplificazioni storiche in cui lui stesso cade lui è questa immagine dell'epoca romana che è un'epoca in cui il potere del principe che va temuto perché il principe può ammazzarti può disporre del potere di spada quindi tu devi temere il principe il timore del sovrano è comunque in macchiavelli un elemento fondamentale e lo sappiamo tutti tutti quanti abbiamo timore della legge delle conseguenze della legge e il timore per una legge è parte integrante del nostro rispettare la legge ok non facciamo gli idealisti duri e puri sappiamo tutti quanti abbiamo paura che contravenendo una legge incoriamo nella punizione con buona pace di michelle fuccoe via dicendo quindi quello è un elemento fondamentale il principe in teoria deve essere anche amato ovvero e lui di nuovo prende l'epoca romana perché perché comunque la collettività la comunità non segue le leggi solo per timore ma anche perché condivide i valori che quelle leggi rappresentano ecco in quel caso c'è una comunità ideale saggia in cui la legge si regge sulla consapevolezza della collettività della società e via dicendo quindi in quel caso il principe è temuto ma è anche amato perché la sua azione in linea con quei valori sorretti dalla comunità ma ma chiavelli non vive in epoca romana vive nella firenze più devastante devastata anarchica e impazzita della storia perché in alcuni decenni firenze cambia colori cambia umori cambia padroni cambia sovrani e l'epoca in cui savonarola viene messo a rogo e l'epoca in cui il papa comincia a fare tutto quello che gli pare l'epoca in cui i medici prima se ne vanno poi tornano e tagliano testa e fanno se è una firenze abbastanza incasinata quella dei macchiavelli ok bene nella sua firenze il sovrano non potrà mai essere amato e se il sovrano in quella situazione dove il caos dilaga vuole essere amato finisce come savonarola morto ammazzato finisce come quelle persone di buon cuore che pensano di poter arginare il caos con i valori cristiani capite che il pensiero di macchiavelli non ha soltanto una coerenza filosofica molto molto solida ma anche un'applicazione e un riscontro nella realtà che lui vedeva chiaramente ed è il motivo per cui nelle sue opere troverete sempre tantissimi rimandi comunque biografici a sue esperienze perché lui è un filosofo che ha incarnato il suo pensiero perciò il principe dovrebbe essere amato e temuto certo in un mondo ideale dove la comunità è sana ma la realtà gli impone sempre di essere temuto non necessariamente di essere amato e qui si aprirebbe un discorso molto ampio sul modo con cui noi oggigiorno viviamo i nostri sovrani che invece devono essere sempre modelli falsi modelli di virtù evidentemente quindi devono essere sempre irreprensibili intoccabili perfetti e questo porta a delle ipocrisia dei fraintendimenti terrificanti è il motivo per cui oggigiorno viviamo con asti o questa questa cosa che i politici promettono cose e poi non le mantengono perché quando fanno campagna elettorale vogliono essere amati e non temuti quando poi iniziano a governare sanno di poter essere temuti tra virgolette ma non amati e quindi questo porta a una serie di fraintendimenti enormi e portano anche la democrazia ad essere traballante perché una democrazia che sceglie sempre persone che sembrano brave persone non va molto lontana perché poi perché poi succede come con i savonarola tu hai il bravo individuo e quelli che riescono a pugnalare le spalle hanno sempre strada facile per questo dico che macchiavelli è molto interessante anche per quello che stiamo vivendo e nel momento in cui il politicamente corretto è entrato anche nella politica secondo me c'è una riflessione seria da fare riguardo ma ovviamente questa la lascio a voi dopo questa live accanto a questo c'è un altro pensiero che è rivoluzionario in macchiavelli in quell'epoca e poi lo è anche per molto tempo e per alcuni aspetti ancora oggi visto che comunque la laicità è un valore che qui in italia latita continuamente macchiavelli in realtà produce uno dei primi veri pensieri laici della storia del pensiero politico infatti secondo secondo lui è la questione della religione nello stato è una questione problematica e in questo lo vedo un po come precursore anche di nice macchiavelli continua a ripetere che in questo in questa visione del sovrano del principe temuto ma non necessariamente amato i valori cristiani hanno creato un'idea distorta per cui si può governare la società con i valori evangelici e di bontà di disponibilità di rispetto per il prossimo di verità e lui dice questo indebolisce drasticamente la società attenzione lui non si lancia mai in una critica del cristianesimo quello che lui fa è criticare i valori cristiani quali fondamento di una società funzionante non può funzionare in questo è molto vicino a nice perché anche nice dirà questo poi nice invece era uno che ci dava contro proprio il cristianesimo in quanto tale però le critiche che macchiavelli fa al cristianesimo come guida politica di una comunità mi ricorda molto alcune alcune considerazioni fatte da nice ecco allora che macchiavelli fa un passo interessante lui dice che la cosa veramente importante non è la religione in sé per sé perché lui è consapevole che la religione è un uno strumento fondamentale di costruzione sociale lui scrive è veramente mai fu alcun ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a dio perché altrimenti non sarebbero accettate perché sono molti i beni conosciuti da uno prudente i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere ad altrui però gli uomini savi che vogliono torre questa difficoltà ricorrono a dio cosa sta dicendo qua sta dicendo il sovrano ricorre a dio ed è giusto che lo faccia perché l'idea di dio sta al fondamento della fiducia nella legge questo lo diranno tanti altri lo dirà anche loc per dire john locke dirà perché non posso non fidarmi di un ateo in società perché l'ateo non credendo in un potere trascendentale se non rispetta la legge o rispetta la legge per lui è la stessa cosa poi ovviamente è una critica criticabilissima però per dire questo pensiero poi ha una certa fortuna nella storia del pensiero filosofico e politico quindi dio serve ma dio serve come atto persuasivo che induce ancora quel timore nei confronti della legge e quindi del sovrano ma non come veicolo di governo ovvero non come veicolo di valori che indirizzano l'azione di governo perché se no fai la fine di savonarola savonarola prende il potere riesce anche per qualche tempo a gestire una firenze un po più onesta un po più limpida e poi arriva il papa e dice sai cosa questo savonarola lo prendiamo e gli che succede ok la cosa fondamentale infatti per macchiavelli e in questo è un precursore di due grandi pensatori giambattista vico e feuerbach di cui faremo la monografia nella prossima stagione sia di vico che di feuerbach intendo la cosa veramente importante è la consapevolezza di come i valori fondamentali di una religione si connettono al sistema di leggi perché se la religione sta a garanzia delle leggi allora è buona se la religione invece diventa veicolo di governabilità succede il disastro questa cosa ovviamente non è andata mai giù alla chiesa perché è uno degli attacchi più devastanti fatti al potere del papa e questo portò il principe i testi di macchiavelli ad essere banditi per 250 anni e macchiavelli ad essere espulso da firenze a lui diciamo così questa cosa non è andata mai giù e perciò ecco spero di avere intanto messo in piedi una buona struttura per comprendere perché macchiavelli scrive certe cose e detto questo possiamo passare a qualche domanda fede ciao ragazzi allora partiamo da questa di valentina che ti chiede per te quale politico italiano segue o magari cerca di seguire queste regole allora magari anche qualche esempio un po più passato non deve essere per forza come sicuramente visto che l'ha anche citato sbagliate volte a me sembra che matteo renzi abbia cercato di manifestare alcuni di questi atteggiamenti portati da prima facciamo subito una specifica oggi i politici sembrano non seguire macchiavelli perché fanno di tutto per mostrarsi limpidi onesti trasparenti poi il politico non è così non può essere così non è il ruolo del politico perciò in realtà ogni politico italiano americano segue macchiavelli perché perché nella politica non dico non è una roba da complottista questa è una cosa proprio da 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 persona che ragiona la politica è fatta di non detti quando va bene inganni sotterfuggi cambi di casacca mercanteggiamenti cioè ragazzi la politica è così noi possiamo stare qua e idealizzare la politica finché vogliamo ma poi la politica è così è come la descrive macchiavelli quindi tutti i politici seguono macchiavelli non tutti lo mostrano secondo me fra quelli che lo mostrano in italia c'è stato matteo renzi lui anche quando c'era il referendum costituzionale ha proprio detto alcune cose che secondo me erano dei chiari richiami al filosofo fiorentino quindi lui craxi sicuramente è una figura storica che ha cercato in qualche modo di interpretare questo questo alcuni aspetti di macchiavelli almeno manifestamente oggigiorno nel mondo se io prendo invece il mondo mi rendo conto che secondo me la politica portata avanti da netanyahu è una politica macchiavelliana perché ovviamente mettendosi nei panni di netanyahu l'azione che lui sta facendo è un'azione atta a proteggere la comunità di riferimento lui è ampiamente convinto poi possiamo stare qua a discutere finché vogliamo che ci stia riuscendo o meno ma lui sta cercando di fare un enforcement di leggi e di azioni che portino a proteggere la comunità facendo qualcosa di terribile perché è terribile quello che sta facendo ecco io credo che la filosofia macchiavelliana esista in tutti i sistemi politici ma si manifesta nei conflitti per me questo è molto molto chiaro noi in italia facciamo fatica a vedere il macchiavellismo però quello intelligente della politica perché 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 non serve sembrano tutti dei bambolotti belli bravi tranquilli dovesse esserci un forte conflitto politico all'interno del mondo italiano alcuni tratti macchiavelliani verrebbero fuori con maggiore facilità questo mi sembra che sia una buona risposta da darti e poi c'è g botta che dice possiamo dire che macchiavelli è opposto all'uomo di russo che nasce libero ma ovunque in catene allora no opposto no e ti spiego anche perché perché secondo me la visione antropologica di macchiavelli è amorale come l'era quella di hobs homo homini lupus e il fine giustifica i mezzi sono delle visioni amorali ovvero non è che l'uomo sia buono o cattivo l'uomo non ha una natura buona o cattiva l'uomo se non comandato da leggi si fa naturalmente trasportare dalla malvagità che è del mondo la visione russoiana invece è una visione morale l'uomo ha una natura buona ed è il motivo per cui io russo l'ho sempre rigettato perché per me la natura umana è una natura amorale sono sempre stato convinto di questo spinoza hobs locke macchiavelli ne parlano russo invece mette la morale nella natura che per me è una cosa terrificante terrificante perché porta alle peggiori nefandezze se tu pensi che l'uomo abbia una una sua natura e quella natura sia morale tu rischi di far intendere tutto quello che circonda all'uomo e infatti è quello che succede proprio con russo quindi non è opposto è che russo moralizza la natura umana macchiavelli no se fosse opposto sarebbe russo dice che l'uomo è buono macchiavelli che l'uomo è cattivo macchiavelli non dice questo ci siamo ci siamo bene e allora procediamo con il secondo capitolo di questa monografia la fortuna il caos la politica e attenzione perché la citazione che farò potrebbe infastidire alcuni perché sarà di nuovo in toscano no adesso capirete perché perché la fortuna è donna et è necessario volendola tenere sotto batterla et urtar e si vede che la si lascia più vincere da questi dai temperamenti impetuosi che da quelli che freddamente procedono e però sempre come donna è amica dei giovani perché sono meno rispettivi più feroci e con più audacia la comandano ora fermi 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 vi vedo già lì a consumare la tastiera sì lo so è una citazione che sicuramente può infastidire ma una citazione di 500 anni fa cioè nel senso contestualizziamola sì quella di macchiavelli era una società società mediamente più maschilista sì macchiavelli non era particolarmente dedito ai femminismi contemporanei sì è antropologicamente sbagliata però non è questo il punto il punto è non il ruolo della donna ma la concezione della fortuna ok allora cos'è che sta dicendo qua tralasciamo infelice paragone con la donna la donna non va comandata non va battuta non va urtata non è vero che ama i giovani perché sono più feroci e la comandano lasciamo perdere la fortuna però puntiamo l'attenzione sulla fortuna la fortuna va comandata questo dice macchiavelli e attenzione questo è molto importante perché si comprende è l'altro tassello che permette di capire perché la sua concezione politica va in quella direzione ok bene perfetto allora nel pensiero di macchiavelli esiste un contrasto fra la libertà e la fortuna lui dice in alcuni in alcuni suoi suoi scritti che era tentato a un certo punto della sua vita di seguire le massime stoiche lui si è avvicinato lo stoicismo quello di seneca marca aurelio ovvero quello secondo cui non puoi non puoi comandare la fortuna cioè lo stoicismo ora sto facendo una grande semplificazione però lo stoicismo ti dice le cose che sono legate alla fortuna ovvero al caso non le puoi comandare le devi accettare anche quando sono nefaste devi invece individuare quel poco su cui hai potere che di solito nello stoicismo è il modo in cui tutti rappresenti la realtà per un periodo macchiavelli dice di essersi avvicinato a questa idea di essere stato tentato ma poi vi si allontana decide infatti che la politica e questo lo decide grazie alla sua esperienza lui dopo finiti gli studi il padre era avvocato finisce subito a fare il segretario di stato a firenze quindi ha subito un'esperienza abbastanza importante a livello politico lui decide che la politica è l'arte di arginare le conseguenze della fortuna e arginando le conseguenze imparare ad arginare gli effetti della fortuna ovvero saperli anticipare farsi trovare pronti di fronte al caos cosa che per gli stoici non era particolarmente proficua quindi macchiavelli qui è molto originale nel modo in cui intende il confine fra libertà e fortuna per metà secondo macchiavelli per metà quindi capite tanta roba per metà le cose umane dipendono dalla sorte per metà dalla libertà e la libertà si 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 manifesta nella politica qui vorrei soffermarmi a farvi notare quanto in realtà sia romantica l'idea che macchiavelli ha della politica macchiavelli sempre definito come pensatore cinico pensatore dell'inganno del fine giustifica i mezzi non è non è così l'idea che macchiavelli porta della politica è un'idea ricca è un'idea veramente ispira ispiratrice ve lo dico è di grande ispirazione macchiavelli per una persona che si avvicina alla politica quindi quindi la politica non è soltanto l'arte che argina la fortuna ma è la forma più alta di libertà nei suoi scritti lui continuerà a anche quando le cose gli andranno malissimo sono andate veramente male perché lui di nuovo muore in povertà pressoché assoluta ok però anche nei momenti peggiori lui continua a dire quanto sia stata la cosa più importante della sua vita servire lo stato servire lo stato di firenze perché quella era la sua libertà perché per lui l'essere umano trova la sua dimensione più alta nella difesa della sua patria ed è una cosa ispirante quindi per metà le cose dipendono dalla fortuna per metà dalla libertà e la libertà è la politica da questo punto di vista però macchiavelli ha una concezione tragica della vicenda umana e di conseguenza della politica e anche questo sembra un controsenso ma non è non è così non è così la tragicità è qualcosa di romantico il tragico esiste in virtù del fatto che tu sai che non potrai del tutto vincere la tua battaglia e con tragico intendo proprio il tragico greco c'è un motivo per cui macchiavelli continua a rifarsi al mondo antico a quello romano ma anche a quello greco perché lui è innamorato del modo in cui i greci intendevano la tragicità ve lo ricordo insomma ne abbiamo parlato con la monografia sull'odissea sull'iliade il greco è intimamente convinto di avere ben poco potere sulla realtà di essere comunque sempre in mezzo alla guerra di realtà divine molto molto più forti potenti e vaste rispetto alla sua piccola ragione ma ciò non toglie il fatto che l'essere umano non possa interpretare il suo ruolo lui lo interpreta verrà sconfitto ma l'essere sconfitto non è un buon motivo per non tentare ecco questa è la dimensione tragica di macchiavelli lui sa che la storia umana è storia di sangue è storia di guerra è storia di disfaccimenti e sa che in fin dei conti il potere della fortuna prima o poi finisce per spazzare via anche le migliori opere anche le migliori intenzioni e di nuovo questo avrà un'influenza enorme su giambattista vico su altri pensatori questa dimensione tragica non va letta come una rendevolezza va letta come il motivo precipuo dell'azione politica della libertà è proprio perché so quanto è impossibile la mia missione di essere umano che la porto avanti con ogni mezzo anche quando sono sconfitto esattamente come accade a macchiavelli lasciando invece le cose alla fortuna come vorrebbero gli stoici secondo macchiavelli lo stato va in malora perché finiscono per dominare i vizi l'ozio il lassismo la cupidigia e di nuovo non perché l'essere umano sia malvagio ma perché la fortuna non arginata dalla legge e dalla libertà finisce per prendere il sopravvento su tutto è per questo che bisogna credere nella legge bisogna difendere lo stato scrive macchiavelli la qual fortuna vuol fare ogni cosa ne serve cercare di darle briga l'unica cosa che si può fare è aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agli uomini e farsi trovare pronti ecco cos'è la libertà e adesso non voglio farmi un'autocitazione ma quante volte l'abbiamo ripetuto questo tu non puoi arginare le cose del mondo non puoi combattere il fatto che la sorte ti getta addosso le cose pesanti della vita ma puoi prepararti e riconoscere gli effetti della sorte prima che arrivino la legge ti prepara ad affrontare le cose della fortuna il principe deve allenarsi alla crudeltà non perché uno stronzo ma perché deve anticipare il momento in cui la realtà gli richiederà di essere crudele il principe deve previvere il momento in cui la fortuna gli chiederà di fare qualcosa di scomodo terribile questo di nuovo certo che è cinico ma non è cinico nel senso di disilluso non è cinico nel senso che pigliamose quello che è nostro non è quel tipo di cinismo è il cinismo che si rende conto di quanto la natura voglia tutti noi morti e di quanto abbiamo la possibilità attraverso la legge e la politica e quindi la libertà di prepararci al momento in cui la fortuna cercherà di toglierci di mezzo per machiavelli questo è fondamentale machiavelli è un preservatore della parte più nobile dell'umanità che è lo stare in società possiamo sposare o meno la sua visione io credo che abbia molta ragione se volete sapere di più guardate il daily cogito sul gioioso pessimismo ok io ho parlato esattamente di questo la fortuna la natura lo stato brado ci vogliono morti nel modo peggiore se ne fregano della vita umana se ne fregano delle nostre leggi delle ragioni dell'amore della bellezza dell'arte siamo noi che possiamo preservare queste cose e non semplicemente come gioco possiamo preservarle con la nostra forza e volontà perché sono ciò che ci fanno sopravvivere ciò che ci fa sopravvivere questo è questo è il punto essenziale perciò la politica è la forma più alta di libertà l'uomo esercita la massima forma di libertà nella cura delle cose dello stato che sono la manifestazione dello stare in comunità dell'accordarci dell'amarci del del commerciare del divertirci questo messaggio è fondamentale nella nostra epoca perché noi l'abbiamo persa questa consapevolezza la gente non va a votare che è il gesto di diciamo così partecipazione politica più più basilare più basso anche mi verrebbe da dire ok più più meno impegnativo vai a votare cazzo ti impegna dieci minuti del tuo tempo perché si è di me le persone sono dimenticate del fatto che la dimensione sociale in cui viviamo esiste perché facciamo lo sforzo di farla esistere no la diamo per scontata la filosofia di machiavelli è una chiamata di risveglio che ci dice guarda che c'è uno sforzo per mantenere questo il principe non ti dice è il sovrano fa quello che vuole no ti dice il sovrano è solo chi si vuole sforzare massimamente per mantenere questo ordine si sforza talmente tanto da fare qualcosa che lo ripugna perché qui machiavelli non dice mai che a fare il crudele il sovrano deve divertirsi no anzi non è bello che il principe debba fare qualcosa di terribile non è bello che debba incarcerare torturare uccidere non è bello che debba fare la guerra rapire multare non è bello ma la politica e la libertà nascono da quello sforzo e in una comunità sana lo sforzo del sovrano diventa lo sforzo di tutti quanti e più tutti si sforzano a mantenere quell'ordine meno il sovrano sarà costretto ad essere crudele capite la costruzione che è anche una costruzione logica di machiavelli ed è da questo punto di vista che io considero machiavelli un precursore anche di spinoza anche se ovviamente più pessimista di spinoza non soltanto perché lui afferma come affermerà spinoza che l'essere umano che non fa quello sforzo di comprensione è molto più preda delle pulsioni i conati ok quindi molto più preda delle emozioni degli istinti e perciò della superstizione e perciò di tutto quello e che sia in spinoza che in machiavelli lo sforzo della razionalità che va verso la verità e la libertà guarda caso è ciò che tiene insieme la comunità che permette il progresso la comprensione via dicendo ma addirittura arriva poi spinoza a dire una cosa che in machiavelli è scritto ovunque cioè che lo stato è manifestazione proprio di quella libertà io credo che adesso non sono sicuro che spinoza avesse letto machiavelli non sono sicuro anche perché era un libro molto difficile da trovare in quell'epoca però la loro concomitanza di ragionamenti è per me molto 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 interessante alcune parti del tractatus teologico politico mi ricordo la prima volta che l'ho letto visto che avevo letto prima machiavelli al liceo che spinoza mi ha proprio fatto dire ah cazzo vedi che ci sono queste queste concomitanze molto interessante però attenzione come dicevo non è neanche del tutto pessimista machiavelli perché il modello del principe romano che governa una comunità dedita alla ragione esiste ne parla spesso c'è quindi la possibilità di avere un'umanità consapevole che permette al sovrano di farsi temere e amare ovviamente non era quello che succedeva nell'afferenza del suo tempo e quindi questo lui ha vissuto tutto l'opposto il motivo cioè scusatemi la conseguenza del fatto che appunto non tutta la comunità riesce a sostenere questa visione della legge ma invece si lascia andare alle fortune alle sorti e non non è all'altezza di quella libertà è il motivo per cui poi la politica secondo machiavelli necessita di un pizzico di pazzia di impeto un po' come mi verrebbe da dire la dose di veleno che ti rende immune all'avvelenamento perché la fortuna il caos è pazzo ed è impetuoso ed è irragionevole ed è violento perciò il sovrano deve essere disposto a portare avanti la sua politica anche con un quid di pazzia di violenza e di impeto peraltro richiamandosi a quella cosa che leggevo prima è il motivo per cui machiavelli è molto convinto che nella politica l'apporto dei giovani sia fondamentale in un momento storico dove invece come ho detto qualche giorno fa sono tutti bigliardi questo dovrebbe farci riflettere la politica portata avanti senza impeto rende più vulnerabile lo stato agli strali del destino riflettiamoci perché è interessante questo nella mandragola che è la sua opera teatrale letteraria più famosa a un certo punto scrive c'è un personaggio che prende la parola e dice che partito ho a pigliare dove mi ho a volgere a me bisogna tentare qualche cosa sia grande sia periculosa sia dannosa sia infame meglio è morire che vivere così se io potessi dormire le notte se io potessi mangiare se io potessi riconversare se io potessi pigliare piacere di cosa veruna io sarei più paziente ad aspettare il tempo ma qui non c'è rimedio e se io non sono tenuto in speranza da qualche partito io mi morrò in ogni modo e veggendo davvero a morire non sono per temere alcuna cosa ecco vedete in questa parte è espresso proprio quello che dicevo in un mondo ideale certo che avrei pazienza se io potessi dormire la notte se potessi mangiare se potessi conversare se potessi pigliare piacere di cosa veruna io sarei più paziente ad aspettare il tempo cioè se il mondo fosse piacevole benigno se le cose andassero bene io certo sarei paziente aspetterei il tempo ma ma qui non c'è remedio dice il personaggio e si soffre la natura è crudele quindi quindi veggendo davvero a morire non sono per temere alcuna cosa quindi vedendo che le cose vanno allo sfacelo uso un po' di pazzia uso un po' di impeto e la mandragola parla un po' di questo e questo è il tema fondamentale se tutto va allo sfacelo tanto vale la pazzia l'impeto ora al di fuori della legge al di fuori dell'ordine quella pazzia quell'impeto diventa omicidio terrore sangue guerra ma nell'ambito del principe se il principe è disposto a usare un po' di pazzia un po' di impeto questo potrebbe addirittura rafforzare lo stato in un momento in cui la comunità non riesce a tenere in piedi le cose quella pazzia e quell'impeto forse poi produrranno uno stato di cose che permetterà alla comunità di essere più pacifica e tranquilla e in questo continuo interscambio si gioca la vita della collettività capite che è un gioco molto complesso non è un gioco come spesso Machiavelli viene raccontato anche a scuola malissimamente è un gioco molto complesso molto su più livelli di nuovo ritorna l'ineadeguatezza della morale cristiana che rende deboli e poi c'è un'ultima citazione molto interessante che introduce ovviamente l'altro ambito che vi consiglio eventualmente di affrontare nella lettura del testo sulla guerra di Machiavelli e quando parla della questione della guerra del militarismo scrive questo il modo del viver d'oggi rispetto alla cristiana religione non impone quella necessità al difendersi che anticamente era perché allora gli uomini vinti in guerra o si ammazzavano o rimanevano in perpetuo schiavi dove menavano la loro vita miseramente le terre vinte o si desolavano o ne erano accacciate gli abitatori tolti i loro beni mandati dispersi per il mondo tanto che i superati in guerra pattivano ogni ultima miseria ma oggi questa paura in maggior parte è perduta dei vinti pochi se ne ammazza nienuno se ne tiene lungamente prigione perché con facilità si liberano qualcuno potrebbe dire beh ma Machiavelli questa è una buona cosa cioè se si fa la guerra si ammazzano meno persone si mettono in schiavitù meno persone quindi è un bene ni secondo Machiavelli perché perché in realtà questo finisce per convincere le persone a indebolirsi a non prepararsi agli stralli della fortuna e a un certo punto quando la fortuna avversa colpisce lo Stato quello non è più sufficientemente pronto per arginare gli effetti di quella sorte pensate alla nostra situazione pensate all'Europa pensate all'Europa è la smilitarizzazione dell'Europa perché è stata fatta proprio perché nell'ambito del secondo novecento le guerre sono diventate meno violente la gente muore di meno si è più civili persino nell'ambito dei conflitti fra nazioni per quanto si possa parlare di civiltà e insomma in qualche modo l'Europa poi è stata difesa dall'America ricordiamocelo l'Europa si è detta ok possiamo possiamo togliere di mezzo questo fardello del mondo militare che non piace a nessuno perché la guerra non piace a nessuno le armi non piacciono e via dicendo questo però pone un serio problema non solo quando una potenza straniera come la Russia ha invaso poi un territorio che è adiacente all'Europa come l'Ucraina ci siamo svegliati dicendo ah aspetta un attimo forse in realtà c'è bisogno di difendersi c'è bisogno di quel cinismo c'è bisogno di fare anche qualcosa di fastidioso cioè avere personale militare armi e dedicare soldi a quelle cose lì ma dimentichiamo che in realtà le minacce possono essere anche molto diverse rispetto a un'altra nazione che ne invade un'altra le minacce possono essere terribili possono essere derivanti non dall'azione umana ma dall'azione della natura uno stato che si convince della bontà dei valori si indebolisce e quello che qui dice Machiavelli è veramente importante per il nostro mondo perché noi abbiamo dimenticato il fondamento del pensiero machiavelliano cioè che lo stare in comunità è soprattutto un prepararsi al momento in cui la fortuna la sorte il caos arriva e tenta di spazzare via l'ordine costituito questo è il messaggio di Machiavelli e credo che sia fondamentale da comprendere anche per il nostro mondo l'ultimo punto che tratto poi passiamo alle domande e chiudiamo la live è legato a una cosa che per me è molto interessante in Machiavelli l'alleanza fra politica e arte non solo perché mi sembra che Machiavelli sia veramente il primo pensatore che riesce a ragionare coerentemente di questo cioè l'arte non più come culto della bellezza o diciamo così sì accrescimento spirituale ma l'arte intesa come uso una parola pesante propaganda ma non propaganda come la utilizzava Eichmann ma come propagandare una visione del mondo che sia anche politica lui ha scritto svariate opere oltre alla mandragola e lui era convinto di questo che l'arte sia un'alleata della politica mi ricorda un po' Shakespeare che ovviamente la vedeva allo stesso modo con delle sfumature diverse Amleto il teatro che svela l'omicidio la finzione che svela la verità la menzogna che smaschera le menzogne ok e questo è un po' il ruolo che Machiavelli dà all'arte sempre in un modo un po' cinico ma non troppo anche romantico l'arte alleata della politica in quanto legata al lato di persuasione e perché no anche di menzogna la finzione che rafforza il messaggio e il potere del sovrano del principe e quindi lui nelle sue opere fra i consigli che dà il principe è proprio quello di utilizzare questi linguaggi che possono essere proficui e interessanti per mantenere e rafforzare il proprio potere e credo che sia veramente una visione molto molto interessante insomma questa prima di venire alla chat qualche parola di conclusione ovviamente in un'oretta non ho potuto che darvi soltanto alcuni spunti leggetelo Machiavelli perché comunque è un pensatore che può rischiarare moltissimi punti oscuri del modo con cui la politica funziona veramente è un autore di 500 erotti anni fa che però ha ancora un sacco di cose da dirci e da insegnarci quindi leggetelo sicuramente ci dà materiale utile per pensare alle crisi del nostro tempo non soltanto la crisi pandemica che ha dimostrato come in realtà lo stato abbia bisogno di compiere anche scelte non simpatiche non legate al consenso perché perché lo stato esiste per arginare il caos il nostro stare in comunità il nostro darci leggi ha quella funzione e il caos non arriva soltanto dal comportamento dell'essere umano ma dall'esistenza della natura che in qualche modo è caos incarnato e che noi dobbiamo in qualche modo arginare e questa visione della politica porta con sé cinismo il fine giustifica i mezzi ma anche una visione consapevole dello stare in comunità perché di nuovo il messaggio di Machiavelli non è soltanto distruttivo non è soltanto repressivo ma è romantico è ispiratore perciò leggetelo perché potrebbe darvi un sacco di consapevolezza e detto questo se c'è qualcuno dalla chat sentiamo buonasera buonasera bentornati allora partiamo da questa di Gabriele che dice come si può conciliare l'approccio pragmatico e a volte cinico di Machiavelli alla sicurezza dello stato del sovrano come per esempio Trump con i principi etici e morali della politica contemporanea è una domanda un po' troppo contorta per me quello che è successo con Trump è chiaramente va nella direzione di quello che Machiavelli dice e scrive la politica americana è una politica che sta vivendo un momento di enorme caoticità ed è il motivo per cui c'è una ricerca spasmodica dell'uomo forte venerdì uscirà un daily cogito in cui analizzerò proprio lo storytelling intorno all'attentato su Trump mostrerò perché in realtà questo attentato andrà la pietra tombale sulle elezioni americane di novembre c'è un motivo ben preciso ed è legato moltissimo al ruolo che lo stato ha nei confronti del caos poi lasciamo perdere che Trump secondo me non è un argine al caos ma è un agente di caos ma questo non è importante spero magari lì non credo che citerò Machiavelli però lì venerdì nel daily cogito che uscirà troverai qualche spunto che potrai ricollegare le cose dette in questa live e poi c'è Luca Consolo che dice quanto e cosa di Machiavelli applicabile nelle nostre vite considerando che non siamo sempre dei principi ma siamo in balia della fortuna no noi proprio non siamo principi per Machiavelli il principe è una figura ben precisa anche il principe è in balia della fortuna cioè nel senso tutti noi siamo in balia della fortuna dal mio punto di vista la cosa che io prendo da Machiavelli più fortemente è l'idea che per stare in società ci vuole uno sforzo immane noi oggi vogliamo fare troppo tutti sempre le anime belle che attenzione non significa adesso cominciamo ad accoltellarci alle spalle significa rendersi conto che per costruire una società che riesca veramente a contrastare il caos del mondo servono anche scelte scomode servono anche decisioni fastidiose e secondo me la cosa che dobbiamo acquisire in quest'epoca è il fatto che l'anima bellismo è il peggior atteggiamento che possiamo avere nei confronti del mondo e di noi stessi con le sfide che ci troviamo di fronte cambiamento climatico ok esattamente la natura ci vuole morti tutti ok ricordarci che ci saranno un sacco di cose fastidiose e dolorose da compiere per mantenere un ordine che non collassi completamente questa secondo me è la cosa che acquisisco più pragmaticamente da Machiavelli in quest'epoca e questo ovviamente si applica in tanti modi e poi l'ultima domanda questa di Erudito che dice che non riesce molto a far conciliare il modello dello stoico principe romano per cui è morale nonché legge seguire la natura umana con la visione amorale della natura umana di Machiavelli secondo te c'è una possibilità di farli conciliare o proprio sono due ma allora intanto quella della natura umana stoica non è che sia una visione morale cioè prendi Epiteto Epiteto non ti dice segui la tua natura perché sei un'entità morale io Epiteto l'ho sempre letto come un un pensatore amorale cioè nel senso tu segui la tua natura perché sei fatto in un certo modo cioè non c'è morale in questo è morale la rappresentazione che tu ti fai delle cose allora lì sì il bene il male ma non è che tu segui la tua natura perché è morale la segui perché perché è inevitabile e se non la segui stai semplicemente facendo violenza su te stesso trova il tuo ruolo non perché sia morale ma perché tu sei quella roba lì questo non lo trovo inconciliabile con la visione di Machiavelli sono due piani diversi cioè Machiavelli ovviamente non ragionava in quel modo lì non mi sembra di ricordare che all'interno delle opere di Machiavelli ci sia un ragionamento che va nella direzione di Epiteto però non sono inconciliabili secondo me sono due dottrine amorali per quanto concerne la natura umana però applicate in diversi contesti una applicata alla ricerca di sé alla conoscenza di sé Epiteto l'altro allo stare in comunità Machiavelli però non le vedi inconciliabili sarebbe bello discutere più ampiamente ma non è ovviamente questa la sede ci siamo bene ci siamo signore e signori vedo che c'è un'ultima domanda sì vero perché l'aveva cancellato perché l'aveva scritta male che dice come può sopravvivere la figura del principe quando la struttura politica prevede il dialogo tra più parti per esempio nelle democrazie allora in realtà Machiavelli ti risponderebbe dicendo che anche nel pluralismo di una democrazia c'è il decisore c'è comunque una figura che domina sulle altre e io credo che in parte sia vero per quanto lui non potesse immaginare una cosa complessa come la nostra democrazia quindi ti direi questo ti direi comunque il principe esiste non a caso uno dei pensatori più influenzati da Machiavelli è Carl Schmitt ok quando lui descrive il ruolo del decisore del politico scrive cose molto molto in linea con Machiavelli quindi ti direi in realtà cambiano le modalità con cui emerge il principe il sovrano probabilmente questo è un ambito in cui il principe emerge più in un ambito emergenziale che non in un ambito normale però non credo che poi siano così differenti i ragionamenti che estrarremmo dal pensiero di Machiavelli anche in una situazione come la nostra credo che sia un pensatore che può dirci tanto ovviamente contestualizzandolo però può dirci tanto anche sulla nostra situazione e il nostro sistema e con questo è veramente tutto signore e signori l'ultima monografia della stagione spero sia stata interessante ovviamente insomma se siete in diretta intanto grazie mille per aver seguito grazie per per gli abbonamenti grazie per tutto grazie ragazzi e noi nelle prossime settimane riformeremo i stemme abbonamenti qui su youtube vi ricordo che nella prossima stagione ma già in queste settimane le live sono dedicate ai soli abbonati e quindi insomma questa cosa l'abbiamo fatta in live come sempre se volete partecipare alle live anche adesso a fine stagione date un'occhiata agli abbonamenti io vi ringrazio per aver seguito mettete like condividete insomma lasciate un commento e fateci sapere cosa ne pensate direi che è tutto grazie un grande abbraccio e alla prossima stagione di monografie ciao 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 grazie a tutti Grazie.